Continuano i controlli su tutto il territorio provinciale nisseno delle forze di polizia e delle polizie locali effettuati per verificare il rispetto delle misure normative attuali per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. Le persone controllate tra sabato e domenica ammontano a 931, tra queste denunciate 150, di cui 89 nella sola giornata di domenica. Serrati anche i controlli degli esercizi commerciali, su tutto il territorio nisseno nello scorso weekend sono state verificate 306 attività. La Prefettura ribadisce l'invito a tutti i cittadini ad osservare minuziosamente le misure di contenimento prescritte, avendo cura di non spostarsi dalle proprie abitazioni se non per strette esigenze di necessità di lavoro e di salute. Resta fermo il divieto di assembramento, violando il quale si incombe nelle sanzioni previste dall'articolo 650 del Codice Penale per inosservanza delle prescrizioni stabilite dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tra i controlli straordinari i carabinieri hanno denunciato a Delia 16 persone di nazionalità rumena, tra cui 4 minori intenti a festeggiare un compleanno all'interno di un appartamento. Tra i denunciati anche alcuni residenti a Canicattì. Sempre a Delia è scattata la denuncia per tre giovani sorpresi dai carabinieri dentro un garage a giocare a Monopoli.